E' partita Sulmona alla vaccinazione anti-covid relativa agli anziani ultraottantenni e all'utenza fragile. Presso il palazzetto dello sport dell'incoronata sono iniziate le somministrazioni delle prime dosi secondo gli appuntamenti fissati dalla ASL, il cui personale è stato affiancato dai volontari della protezione civile comunale per favorire tutte le attività ed assistere gli utenti che si sono presentati puntuali all'appuntamento. E' un giorno particolare questo per Sulmona, mi permetterei di dire che è un giorno speciale in quanto forse svoltiamo pagina, inizia non dico una nuova era ma inizia a vedersi un po' di luce in fondo a quel corridoio così buio che chiamasi pandemia. Nei prossimi giorni proseguirà la somministrazione del vaccino. La vaccinazione andrà avanti ad oltranza, prima ovviamente rispettando gli ottantenni, tutti i pomeriggi qui in questa zona allestita in modo oserei dire perfetto dai volontari della protezione civile e finché non verrà vaccinata tutta la popolazione di Sulmona. Il comune ha dato tutto il sostegno possibile al servizio sanitario di prevenzione per favorire al meglio questo importante passo verso l'uscita dall'emergenza. Qui a Sulmona sta partendo la vaccinazione proprio per gli over 80 e le fasce deboli, quindi con il vaccino Pfizer. Oggi qui primi 100, la struttura come vedete è stata attrezzata di tutto punto, il comune ha dato tutta la disponibilità possibile. Speriamo che arrivino velocemente gli altri vaccini proprio per arrivare ad una capacità massima, anche quella di 400-500 vaccini al giorno, che è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere per affrontare definitivamente e risolvere il problema del Covid anche nella nostra città. L'impegno dunque è massimo? L'impegno è stato e continuerà a essere massimo. Siamo tutti fortemente responsabilizzati in una logica proprio di collaborazione per creare tutte le migliori condizioni per accelerare questa fase. Gli ultraottantenni sono oltre 1.000-1.500, credo che potranno essere vaccinati in tempi abbastanza rapidi. Sono sicura che anche le fasce deboli in questo periodo potranno assolvere a questo compito. Invito tutta la popolazione che non l'avesse ancora fatto a prenotarsi laddove possibile. Sarà la ASL stessa a contattare le persone che volontariamente si saranno prenotate per poter concordare la data di somministrazione.